Giornata di gravi incidenti nelle strade della provincia di Arezzo, due gli interventi dell'elisoccorso Pegaso, il primo nel comune di Anghiari che ha coinvolto un 42enne intorno alle 15 e 45, trasportato in codice 3 all'ospedale di Chiareggi a causa di uno scontro quando era a bordo della sua moto. Sul posto anche ambulanza infermerizzata della Croce Rossa di Sansepolcro e Forza dell'Ordine. Intorno alle 17 poi si è registrato uno scontro fra un'auto e una moto in Viale Santa Margherita, la strada che porta al centro di Arezzo. Nell'impatto è rimasto ferito il 25enne conducente della moto trasportato in codice 3 con il Pegaso alle Scott di Siena, mentre il conducente dell'auto è stato trasportato in codice 2 all'ospedale di Arezzo. Il viale è stato chiuso nel senso di marcia verso il centro cittadino. Non molti disagi visto il poco traffico dato da un fine settimana ancora di ferie. Altro incidente è avvenuto sempre nel pomeriggio in via della Ristradella, nella periferia di Arezzo, dove un'auto si è ribaltata. Non sembrerebbero gravi le condizioni del conducente.